La città di Piela si candida per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione. Il primo dossier di candidatura concerne il nuovo polo dell'infanzia TESS, 3.900.000 euro l'investimento, per realizzare un nuovo polo per l'infanzia, 0-6 anni. E si prevede la demolizione dell'attuale edificio e questa nuova struttura garantirà l'accoglienza dei bambini oggi ospitabili nell'asilo nido comunale di Via Conciatori e presso la scuola dell'infanzia Gromo Cridis. Un altro dossier riguarda la scuola secondaria di primo grado Nino Costa di Chiavazza e qui si dovrà realizzare una nuova mensa per l'importo di 720.000 euro. Un investimento che prevede appunto la realizzazione della nuova mensa dal momento che attualmente sono utilizzati per la rifezione scolastica locali già destinati ad aule laboratorio. Il terzo dossier riguarda invece la realizzazione di due nuove palestre. La prima per la scuola primaria Fermi, Borgo Nuovo in Via Friuli, l'importo di 1.710.000 euro. La seconda per la scuola primaria Carducci nel quartiere Vandorno. Qui l'importo è di 725.000 euro. Attualmente le due scuole sono prive di uno spazio adibito a palestra scolastica e l'obiettivo è quello di favorire le attività sportive, corretti stili di vita nelle scuole riducendo il divario esistente al riguardo e rafforzando le infrastrutture sportive proprio da poter combattere l'abbandono scolastico ma anche incentivare l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali.